Ciao a tutti, oggi prepareremo l'hummus di ceci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono ceci lessati sgocciolati, succo di limone, taina, aglio senza anima, olio evo, acqua, sale, pepe, paprika dolce e prezzemolo. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i ceci, il succo di limone, l'aglio senza anima, il prezzemolo, il sale, il pepe, la paprika e l'acqua. Ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la taina e l'olio. ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 9. l'hummus è pronto, impiattare e servire. Hummus di ceci, si conserva in frigo per 3 giorni, ideale da spalmare su crostini, farcire piadine o tramezzini. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!